Buongiorno a tutti, come state ragazzi? Spero di cuore che state tutti bene. Qua fa freddo, c'è la pioggia, c'è un tipo di tempesta così brutta che a me non mi piace. C'è un vento bruttissimo, questo è il tempo ultimamente in Italia. Sono entrata oggi per voi, dicendovi un mese, spero che tutti di voi avrete parte di un mese maraviglioso. Siamo entrati in mese di novembre, con questa occasione vi auguro di cuore a tutti pace, salute, a parte la pace che ha visto che è iniziato la guerra al mondo e speriamo che Dio porterà la pace in tutte le parti di questa terra, perché è brutto quando c'è la guerra. Io ho messo già la candela di colore bianca per la pace, prego per la pace in tutto il mondo. Oggi mi sono pensato a farvi oroscopo, mesi di novembre ho comprato queste carte, vedete, tarotto gold, carte maravigliose che sembrano oro. In queste carte, solo con queste carte vi farò tarotto per oroscopo per mese di novembre. Dicendo questo vi ringrazio che vi fate iscrivere al mio canale, vi ringrazio per il fatto che esistete, vi ringrazio che mi state seguendo, a parte le persone che siete italiani, vi ringrazio per tutto. Iniziamo con il segno di Ariete. E tutte le persone che siete su questo ascendente di Ariete, vediamo il mese di novembre che vi porta a voi Ariete. Per voi Ariete, una visita neaspettata. In questo mese di novembre avrete un successo assoluto e a parte le persone che siete sul segno di Scorpioni, che vi fate festeggiare il vostro compleanno, avrete le surprise da parte dei amici, da parte dei genitori, da parte di qualche persona, vi esce qua qualche sorpresa, diciamo, per il segno di Ariete, ascendente in Ariete. Ok. Vediamo il fettoro, è ascendente in toro, che vi dice anche a voi, energia a mese di novembre. Qua una rinascita per tante persone qua, ok? Tanti sogni si fanno trasformare in realtà, avrete interazioni benissime voi, segni di toro, con persone di acquario, diciamo, o con segni di acqua. Qua può significare anche il fatto che lasciate indietro qualche energia malina, scoprite chi vi ha fatto male, può succedere che vi liberate di qualcosa, di un peso, di una situazione brutta, di una relazione toxica, perché no? Per segni di toro è un nuovo inizio, un nuovo inizio in amore può essere o anche un inizio in lavoro, diciamo così, o in carriera o in la vita, ok? Vediamo per segno di gemelli, ascendente in gemelli. Vediamo per voi gemelli che porterà. Voi gemelli dovete fare acti di carità, dovete essere più buoni con altre persone, probabilmente se le persone che avete un ego accentuato pensate solo a voi, dovete pensare anche alle altre persone. De volete voi gemelli, in questo mese anche se accendenti di gemelli, de volete che la vita vostra migliora, dovete pensarci un po' anche alle altre persone, perché la carta ti sta avvertendo che tu pensi solo a te, non ti interessa solo l'interesso tuo e in questo punto qua avrai un po' da pagare, perché quello che dai quello riceverai è in cambio, ok? Per il cangro, vediamo anche per voi cangro, ascendente in cangro, vediamo un po' che vi dice. Voi cangro rinunciate da qualcosa, lasciate indietro tutto, assolutamente tutto, può essere anche un lavoro, un affare, un amore, non vi mai interessa niente, siete stufati, voi cangro in questo mese prendete un'iniziativa un po' diciamo svalutata per altre persone, per voi reale, finalmente avrate coraggio a lasciare tutto indietro, a iniziare da capo un'altra vita. Anche indietro era una vita stabile, una vita con soldi, una vita che vi faceva bene, qualcosa vi disturbava, ecco perché voi cangro rinunciate da qualcosa, potete rinunciare alla vostra famiglia, potete rinunciare da un amore, da un lavoro, chissà che avete voi cangro o ascendente cangro in mente, perché vi esce che rinunciate da qualcosa e andate su un'altra strada, diciamo così, ok? Vediamo per segno di leone, è giustamente ascendente un leone che vi esce, leoni, 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 pensate a soldi, vedete? Pensate a soldi e questo mese sarate messi su energia di denaro, questo mese per voi leoni si tratta di soldi, giustamente che avrete paura perché vi esce un coniglietto qua, vi esce una paura che rimanete senza soldi, rimanete senza dinaro, però io vedo che le cose si risolvono per voi in questo mese, o in questo mese in ambito lavorativo guadagnate di più, o qualcosa accade di meraviglioso che succede le cose importantissime, vi dice proprio che le cose si aggiustano in materia di soldi, cioè le persone che volete soldi sicuramente il segno di leone questo mese lo avranno, vediamo anche il mio segno di vergine, che dice anche questo segno di vergine. La vergine avrà la potere a mano, avrà la potere a dominatoria, probabilmente, vedete, sarà dominante per segno di toro, per segno di leone, la vergine risolve le questioni di soldi, risolvono le questioni di documenti, ci sono cose che li tengono sempre aperte, sempre in attenzione, diciamo così. Le vergine questo mese, questo mese è vero che è un mese anche produttivo, di punto di vista di dinaro, però anche un mese di intelligenza, anche un mese di logica, sicuramente le vergine userà anche la logica in questo mese di novembre. Siamo aggiunti la bilancia, un ascendente bilancia, bilancia segno fisso e bilancia ascendente. Le bilance, siete un po' triste, siete un po', o siete malate, o scoprite che avete una malattia che vi metterà giù, o siete voi in depressione, o non ci avete voglia da farci nulla, o vi riprendete dopo un sogno profondo, una malattia, un dolore, qualcosa di genere. Comunque, questo mese la bilancia deve essere un po' più attenta intorno alle persone false, le persone che stanno cercando a approfittare di abbondare di buonezza, di bilancia, diciamo così. O voi ha perso un lavoro, però comunque sicuramente lo trovate, o qualcuno è malato, voi stessi siete malati, questo mese è un mese anche di riprendervi, perché vedete questa persona si alza di letto, anche quelle spade sono misse lì, però dovete stare attenti anche ai namici, dovete stare attenti a chi avete fiducia, perché le bilance saranno attaccate in questo mese di novembre. Vediamo anche per scorpioni, perché è il mese di scorpioni, ok? Accendente, segno fisso e ascendente. Vediamo per voi scorpioni. Voi scorpioni, questo mese, avendo in considerazione che è il vostro mese, avrate una fortuna. Universo vi dà quella che meritate, diciamo così. De voi meritate dinaro, Universo vi dà. Allora, questo mese per voi può essere anche un mese karmico. Quella che hai dato, quella riceverai. Hai dato buono, prenderai buono in cambio. Hai dato bene, diciamo, prenderai bene. Hai dato male, prenderai le conseguenze male. Per scorpioni c'è un mese, diciamo, di pagamento, anche di un punto di vista karmico, però anche un mese di successo, successo la scuola, successo in affari, successo in famiglia, anche un successo assoluto per voi scorpioni. Auguri a tutti i scorpioni, auguri anche alle mie bambine, tutte e due scorpioni. Vi immaginate che roba, che bella roba, no? Vediamo per saggettari, anche per voi, anche segni fisso, anche saggettari. Anche voi, vedete, la saggettari riesce a un tradimento, attenzione massima. Può essere una malattia brutta, che vi mette giù un'operazione, un problema di cuore, un intervento, o una notizia della vostra famiglia che qualcuno muore, speriamo di no, o voi stessi vi sentite feriti. Dovete stare troppo attenti perché in questo mese di novembre tanti saggettari si ammalano gravamente, o qualcuno muore, loro soffriranno, o saranno traditi. Traditi anche di punto di vista a lavoro, con amici, o può essere un tradimento in amore. C'è un problema qua con saggettari questo mese, ok? Vediamo per capricorno. Non dimenticare che questa è una lettura generale, non è personalizzata. Per letture personalizzate, mi cercate su a capricorni. Capricorni avranno una grande fortuna questo mese. Vedete quelle cupe su, saranno vincitori e lavoro in amore in tutti gli ambiti possibili. Per capricorni vi è meraviglioso questo mese, un mese di successo assoluto, un mese di faima, di ricchezza, un mese di tutto assoluto bene. Come se forse la felicità, come se forse tutto assolutamente le vostre mani. È bellissimo per capricorni. Vediamo anche per voi acquari. Anche per acquari ascendente in acquari. Acquari avrete anche voi conquistate il cuore di qualcuno questo mese, conquistate il cuore dei leoni, probabilmente, anche il cuore del saggettario, diciamo così. Voi acquari, in ambito lavorativo, anche lì probabilmente andrate a fare un po' di corsi, un po' di esamini e inizierate un lavoro dove sarate voi capo di questo lavoro. Un mese anche per voi di un grande lavoro, un grande successo in lavoro a parte. Un mese in quale voi conquistate il segno di leone, il segno di saggettario. Un mese giustamente di fortuna anche per voi. E vediamo, ultimo segno, pesci e ascendente in pesci. Vediamo un po' per pesci, che ne dice qua per pesci. Pesci, pesci, pesci. Pesci anche voi vi pacificate. Qua vi esce un pacificamento per tante persone, con famiglia, con amici, che hanno avuto un confronto, perché no, in amore. In caso in quale siete sole, le donne di segno pesci, ascendente pesce, trovate un uomo, Bruno Castano, che questo sarà vostro destino, arriva vostro destino nella vostra vita. Vedete questo cavaliere bellissimo che arriva da un viaggio in vostro cammino. Probabilmente con tratte questa persona qua è un ambito lavorativo, fuori, una discoteca, un club, un bar, perché no. Vi esce bene. Vi esce un mese, il mese di novembre, vi esce un mese di amore, vi esce un mese di pacificare, pacificamenti con le persone che voi siete litigate. Bravissimi tutti, questo è, spero che vi abbia piaciuto questo oroscopo, che le mie carte l'ha fatto per voi, una energia. Io che vi posso dire, vi posso augurare un mese maraviglioso, un mese di novembre pieno di felicità, giustamente pieno di pace, perché vedete che mondo c'è la guerra. Pace e i vostri desideri si stanno trasformando in realtà. Vi bacio e vi auguro in continuare una bellissima serata.